Sono contento di comunicarvi che è operativo proposte.ambrosolilombardia2013.it, è una realtà che per me ha un valore strategico, la vostra partecipazione alla redazione del programma, oggi alla guida di Regione Lombardia, di una nuova Regione Lombardia, quella che vogliamo domani. Ascolto della vostra volontà, delle vostre idee, del vostro modo di intendere la nuova Regione Lombardia per determinare il cambiamento di questa realtà. Ascolto per riuscire a riavvicinare tutti noi alla politica. Questo è il concetto che noi abbiamo della partecipazione, qualcosa di un po' impegnativo, non facile, non è un mi piace da aggiungere in fondo un'idea, è qualcosa nel quale potete essere protagonisti.